Ragazzi ragazzi, piccolo aggiornamento, piccola novità, sicuramente un po' infelice da parte di Konami, ma così è. I giocatori Fortress non sono attualmente disponibili perché hanno scoperto che ci sono errori nella descrizione dei player skills nella nuova introduzione Showtime Fortress, cioè immagino il caposaldo, quello di cui vi avevo parlato. Come risultato abbiamo sospeso temporaneamente la lista affetta da questo errore in questi momenti, ecco perché c'è stata quella manutenzione imprevista. Konami ha pensato di rintrodurre i Showtime Fortress il 10 marzo, cioè domani stiamo pensando di mandare qualche forma di compensazione agli utenti nello stesso giorno. Chiediamo scusa per l'inconveniente causato e questo è quanto. Capiremo quindi se il discorso è del caposaldo, io penso di sì, magari è stata data qualche informazione sbagliata e non era come scritto, cioè che aumentava la qualità difensiva in tutti i giocatori, solo nel secondo tempo, solo se è in vantaggio. Domani scopriremo la verità, intanto fatemi sapere se qualcuno di voi li ha già presi o meno e vedremo un po' cosa accadrà nelle prossime ore e se domani davvero i giocatori torneranno. Per il momento è tutto ragazzi, un video molto molto rapido. Ci sono anteprime per i pool di lunedì, ci ne saranno due di pool al 99%, ma ne parleremo domani e nei prossimi giorni. Vedremo un po' di risolvere intanto la questione di questi giocatori rilasciati e poi ritolti. Ci aggiorniamo, ciao!